Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio liberarti il significato del idiom of the week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of the week of today is in the blink of an eye. In the blink of an eye means so quickly, like almost imperceptible. L'espressione idiomatica in the blink of an eye viene quindi tradotta con l'espressione italiana in un batter di ciglia, del resto blink è il battito di ciglia. Vediamo una frase di esempio. In the blink of an eye, it was gone. In un batter ciglia se n'era già andato. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo idiom of the week e nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere utile. A presto!